Fratelli d'Italia, d'Italia sedesta Collino di Mameli intonato da un ospite speciale a Barletta ha preso il via alla cerimonia per la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica La vita continua e noi bisogna che continuiamo insieme alla vita, per dare vita alla vita La scelta della Prefettura è stata di assegnare i riconoscimenti ai settori che durante l'emergenza hanno subito le maggiori pressioni dal mondo della scuola a quello dei vigili del fuoco, alle imprese che si sono dedicate alla distribuzione dei presidi e alle attività di beneficenza ad un rappresentante degli enti locali e al Dipartimento di Prevenzione Siamo stati vicino all'individuazione dei casi nella prima fase Adesso siamo impegnatissimi sulla vaccinazione che sarà ed è l'unico strumento efficace per cercare di uscire il più presto possibile da questo incubo Un riconoscimento che desidero condividere certamente con la mia famiglia e che rappresenta certamente un impegno Il padrone di casa ha sottolineato l'importanza della condivisione di questa giornata assieme alle altre istituzioni le stesse con le quali ha fronteggiato la pandemia C'è un momento ancora più importante, quello della ripartenza perché tutte le istituzioni insieme possano iniettare fiducia e soprattutto favorire questa ripresa e questa rinascita sociale ed economica